Parliamo di banche, torniamo agli East End Studios per la terza giornata del Consiglio Nazionale FAB, giunto quest'anno la 128esima edizione. Con Iola e Saggesi abbiamo intervistato Lando Maria Sileoni, segretario generale della FAB e Augusto Dell'Erba, presidente Federcasse. Dopo la firma del contratto, cosa cambia per il settore bancario? Un contratto che deve tenere conto di uno scenario economico in costante evoluzione, di uno scenario geopolitico sempre più incerto, ma anche di sfide importanti dall'intelligenza artificiale a come poi le banche devono diventare più attrattive per i giovani. Resta sempre sullo sfondo il consolidamento bancario. Il contratto nazionale va rispettato sulla parte normativa perché garantisce i diritti ai lavoratori, soprattutto in una fase di cambiamento come questo, perché avremo una nuova forma e anche una nuova applicazione dello smart working da codificare e anche da regolamentare nei gruppi. Avremo diversi modelli di barca digitale che creeranno nuove occupazioni, nuove professionalità che dovremo condividere a livello aziendale di gruppo e avremo anche, magari non adesso, ma in qualche tempo, questa situazione legata all'intelligenza artificiale che se non viene gestita preventivamente, con lungiminanza e con conoscenza, potrebbe causare una perdita di posta di lavoro importante. Le aggregazioni bancarie, come potrebbero vanificare il tutto? Noi siamo per che ci siano le condizioni e sono state create le condizioni sia dai lavoratori e dalle lavoratrici del Monte dei Parchi, sia dalla nuova gestione del Monte, finché la banca abbia ancora la possibilità di camminare con le proprie gambe. È chiaro che serve da parte del Governo la convinzione che questo possa accadere e soprattutto serve trovare i soldi perché questo accada, perché al di là delle capacità dell'attuale management, dello sforzo fatto dai lavoratori, serve qualcuno che metta i soldi perché aumenti di capitale fatti dallo Stato non credo che si potranno più verificare per quanto riguarda il Monte dei Paschi. Quindi il Monte dei Paschi dovrà trovare all'interno la forza per poter continuare ad essere autonomo ed è per questo che noi in questi giorni abbiamo stimolato i dirigenti del Monte dei Paschi e indirettamente lo stesso amministratore delegato a non perdere tempo. Dopo la firma del contratto nazionale dei bancari, in primo piano anche il contratto per le BCC, lunedì prossimo la presentazione della piattaforma ai lavoratori. Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse. Beh, innanzitutto avvieremo questa negoziazione e come sempre è avvenuto in un tempo ragionevole sapremo trovare un momento di sintesi e quindi sottoscrivere anche noi il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro la cui permanenza evidentemente ci teniamo molto. Per quanto riguarda la situazione del credito in Italia, evidentemente l'inalzamento dei tassi ha ridotto la domanda ma non ha ridotto la capacità delle nostre banche di concedere credito. Per cui il credito che viene chiesto dalle famiglie, dalle piccole imprese, dalle micro imprese, cioè da quel mondo che tradizionalmente interloquisce con il nostro sistema, sta trovando soddisfazione. È importante che il credito sia concesso ed è importante che il credito sia concesso di buona qualità perché questo assicura l'efficienza del sistema. A proposito di NPL con il...